Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Dopo l'allarme lanciato dai residenti di Rampa San Pasquale, da Tripalda, e raccolto dal Telenostra, questa mattina una pattuglia della Polizia Municipale, su disposizione del sindaco Giuseppe Spagnolo, ha espressionato i locali dell'ex scuola. I vigili hanno redatto una relazione sullo stato del patricente edificio, sul materiale rinvenuto all'interno del plesso abbandonato da anni. I cittadini ci hanno segnalato strani movimenti e un sospetto viavai di persone, in particolare ragazzi visti a girarsi nella zona o a cedere nell'ex scuola, dopo aver varcato facilmente cancelli e inferriate del vecchio istituto. Le tracce di bivacchie e di pericolose iniezioni hanno confermato le testimonianze raccolte nella zona. Gli abitanti della Rampa si sono allertati anche ricordando il drammatico episodio di due anni fa, quando un tredicenne per praticare il parkour era precipitato dal tetto della struttura, riportando gravi fratture. Attraverso il nostro servizio avevamo anche documentato la strana presenza di una montagna di centinaia di sacchetti sistemati in due ambienti dell'ex scuola, buste di cellofan contenenti del materiale tutto da identificare. Un deposito di involucri simili per confezioni e contenuto che aveva catturato anche la nostra attenzione. Gli agenti di polizia municipale nel sopralluogo eseguito stamane hanno prelevato alcuni dei sacchetti sospetti. La sostanza custodita nelle buste sarà analizzata dall'ASL. Da un primo accertamento potrebbe trattarsi di idee e azioni canine. Se confermata questa pista, sarebbe interessante sapere chi e come è riuscito ad allestire una sorta di parcheggio per escrementi tra le macerie dell'ex scuola. Toccherà l'indagine avviata dalla polizia municipale identificare il responsabile, tra l'altro l'edificio a pochi metri dal parco archeologico. La struttura, ancora una volta violata, tra trappole e misteri, rappresenta una mina vagante per residenti e chi la frequenta. Il sindaco spagnolo ha annunciato che a breve blinderà l'ex scuola rafforzando le misure di protezione all'ingresso del plesso. Grate e serrande invece saranno installate per evitare l'accesso di vandali, balordi e che ha trasformato i locali del faticente edificio in un deposito di deiezioni canine. Grazie.